classe raga ragazzi che ha visto un video un po speciale un video che nessuno si aspettava nemmeno io come quando sono stato procreato dai miei genitori non mi aspettavano però eccomi qua l'errore no comunque seriamente ragazzi oggi voglio essere me stesso al 100% oggi voglio aprirmi totalmente con voi voglio farmi conoscere come nessuno mi ha mai conosciuto in vita mia nemmeno mia madre ciao mamma non mi conosci Troie Devo fare un video che appunto vi Voi mi vedete in un modo Voi mi vedrete ancora in quel modo Però nel modo peggiore Mi sono scritto su un foglio 10 cose che non sapete di me Che non sapevo nemmeno io Partiamo da quelle più leggere La prima è che ho un solo rene Quello sinistro se non sbaglio Qui c'è Qui non c'è Ok a destra non ce l'ho Seconda cosa che mi eccitano molto di più le ragazze in due dimensioni Piuttosto che quelle vere Disegnate siete più belle E meno troie E poi in 2D non si lamentano quando ti ci segui sopra Attenti a lasciare il profilo pubblico su Instagram Una volta mi sono sborrato in bocca Una volta mi sono messo un dito in culo A 5.000 like vi spiegherò come mi sono Giù ma ma perché nessuna ti vuole? Faccio video di COD Però i video di COD mi fanno cagare O sono video tipo Joe e Cat Commentary Oppure vi giuro non ce la faccio Cioè non riesco a vedere un gameplay su COD Non nel 2017 Al di là di quel che sembra Mi seguo pochissimo Non mi riempio le pa... Sarà che le pangio poco Una volta ci davo proprio dentro Una volta ero proprio il king Magari ero su Skype Sparivo per quei 10 minuti Nessuno se ne accorgeva 5, 2, 1 minuto E invece adesso vi giuro non... Sono arrivato a quel punto In cui la mano non soddisfa più Ma le minorenni sì A proposito di minorenni Sembra strano Ma non sono mai stato con una maggiorenne Mi sanno di vecchio Proprio puzzano Le minorenni mi danno quel senso di spensieratezza No? Di tornare ai vecchi tempi Mi sento giovane Corpo di mille balene Diciamo che la regola è che l'età della ragazza Non deve superare la lunghezza del tuo cazzo Quindi... Dai 10 ai 12 Tutte le ragazze mi descrivono come un amico speciale Ma mi sento abbastanza down quando lo dicono Una volta al campo da basket Io e due miei amici abbiamo battuto tre filippini So che potrebbe sembrare una notizia a chi se ne frega Però fidatevi raga che i filippini ci vivono col basket Alle medie mi chiamavano l'uomo venuto male Ma io rispondevo che l'importante era venire Sbobave Dobbbero essere già 10 Però vi aggiungo appunto una verità bonus Ovvero raga che Jumbo Drillo è solo un personaggio In realtà io faccio come le donne No sono brutto Faccio schifo Nessuna mi vuole Ma in realtà è solo una tattica Per avere ancora più figa E non funziona E ora vado a vomitare perché mi è salita la sborrina